Continuano i preparativi per la chiusura al traffico del lungomare San Marco ad Agropoli. Il sindaco Adamo Coppola ne ha parlato su Cilento Channel, annunciando il via dei lavori di messa in sicurezza della viabilità alternativa e anche una data papabile per le prime prove di chiusura. Partiranno i lavori di messa in sicurezza del Ponticello, vicino alla chiesa di padre Giacomo Selvi. Dureranno per due settimane e il tratto resterà chiuso. Appena sarà riaperto potremo chiudere il lungomare e provare se funziona, ha detto Coppola. Il Ponticello va messo in sicurezza, comincia ad avere cadute dell'intonaco, piccole crepe e abbiamo chiesto alle autorità competenti di intervenire. Lo sistemeremo e lo renderemo più sicuro e funzionale ed anche illuminato. Ci sarà un semaforo che già abbiamo provato in quella zona lo scorso anno e ha funzionato benissimo nel mese di agosto. Il sindaco poi ha individuato una data per un probabile test di chiusura al traffico per alcuni giorni su lungomare San Marco. In questa fase il mio obiettivo è di implementare le aree parcheggio. Ci stiamo lavorando quando avremo raggiunto 400-500 posti. in più potremo chiudere sapendo di avere i posti necessari per non creare problemi a chi vuole vivere il lungomare, ha detto ancora una volta Coppola. La prova di chiusura verrà fatta tra 15 giorni circa per il weekend del 20-21 giugno. Terremo chiuso per qualche giorno per verificare come va.